Posso riportare un impegno perché a mettere la maglietta sono buoni tutti, il problema è che la maglietta da sola non serve a molto, qua c'è una battaglia da fare in Europa, da fare a Roma, quella che voi state subendo è la miglior dimostrazione, l'ho detto anche stamattina su Rai 3, del fatto che sequesta l'Europa, se l'Europa è quella della Wolkenstein, meglio soli che male accompagnati. I lavoratori italiani sia del turismo balneare che del commercio ambulante non hanno bisogno di qualche cretino di Bruxelles perché gli vada a spiegare come si fa il commercio e come si fa il turismo, quindi ce la siamo fra virgolette cercata, noi abbiamo sempre votato contro ovunque abbiamo potuto, però adesso l'emergenza sono i prossimi mesi, sono le prossime settimane, quindi non mi interessa dire avevamo ragione noi, avevano torto gli altri, qua ci sono migliaia di posti di lavoro in ballo, quindi ritenetemi e lo ritengano quello che sono su questo camion, a prescindere dal lavoro, dall'idea politica, dalla città di provenienza, ritenetemi a disposizione per andare a rompere le scatole a qualcuno del governo Renzi perché si muova e faccia qualcosa. Grazie.